Passiamo con Salvatore Elia, che tipo di partita è stata? Allora, i primi 20 minuti non è stata una partita facile perché loro erano molto chiusi. Siamo stati bravi a sbloccarla e una volta sbloccata siamo riusciti a continuare su quel percorso e cercare di far sempre più gol. Ci racconti i due gol? Istinto, chiamiamolo così. Il primo gol mi è arrivata a palla fuori aria e ho pensato subito a calciare. Il secondo sono stato fortunato perché mi è arrivata a palla lì, però mi è andata bene. A chi li dedichi? Li dedico alla mia famiglia e al mio procuratore che sta per nascere una bambina. Ti trovi meglio da terzino o da esterno alto? Posso dirti che il mio ruolo naturale è esterno alto, però diciamo che mi ero trovato bene anche da terzino. Importante. Penso che non bisogna guardare le due partite che ci mancano, ma bisogna guardare partita dopo partita. Perché ogni partita è a sé e sappiamo che ormai ci sono squadre che devono salvarsi, squadre che devono entrare in playoff, squadre che puntano a vincere e quindi ogni partita sarà una battaglia, qualsiasi che sia. Giocare all'ora di pranzo penso non piaccia a nessun calciatore perché devi svegliarti alle 9 di mattina, mangiare alle 9 di mattina e essere pronto mentalmente anche a mezzogiorno e mezzo a combattere una partita. Perché alla fine combattere, perché andremo a Pesaro con una squadra che punterà il pareggio e quindi sarà una bella partita tosse, dovremo farci trovare pronti anche se sarà mezzogiorno e mezza.